Si dichiara soddisfatto l'assessore alla salute e alle politiche sociali della Regione Umbria, Luca Coletto, per l'assegnazione da parte del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di 16.970.500 euro per interventi legati al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e volti a favorire inclusione e welfare sociale. Le iniziative finanziate in Umbria sono 27 e sono progettate dalle zone sociali con il coordinamento della Regione, che ne garantisce la conformità. Di questi, sette sono progetti per le famiglie e i minori a sostegno della capacità genitoriale. Tre progetti sono dedicati alla prevenzione della salute degli operatori sociali a rischio burnout. Tre progetti sono invece per favorire le dimissioni ospedaliere anticipate ed evitare ospedalizzazioni di persone sole che potrebbero continuare le cure a domicilio. Le risorse, afferma l'assessore Coletto in una nota, permetteranno di potenziare un sistema di interventi a favore delle famiglie e delle persone vulnerabili, che in particolare in questi anni caratterizzati dalla pandemia sono state esposte a rischio di esclusione.